Mi dai pareri sull'articolo 7? Grazie. Onorevole Segoni, 7.2 De Rosa, 7.4 Zaccagnini, 7.7 Sarro, 7.8 Catania, 7.9 De Rosa, 7.10 Catania. Onorevole Zaratti, 7.2 De Rosa, 7.4 Zaccagnini, 7.7 Sarro, 7.8 Catania, 7.9 De Rosa, 7.10 Catania. Grazie, Governo Conforme ai relatori di maggioranza Grazie, allora passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 7, 7.2 De Rosa, se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione con il parere contrario, Commissione e Governo, relatori di minoranza favorevoli, è aperta la votazione. Monchiero, che nonostante tutto si sbraccia Ha riuscito a votare, onorevole? Salterini, Bini in arrivo